ciao a tutti ragazzi siamo qui con un nuovo assaggiamo perché anche dall'italia si possono trovare cose un pochino particolari da mangiare e oggi vi presento questa bella bottigliona qui di spuma che mi hanno gentilmente regalato dei ragazzi siciliani e qui vi lascio vedere anche le informazioni nutrizionali se vi interessano e adesso andiamo ad aprire e ad assaggiare andiamo a versare nel bicchiere e adesso assaggiamo devo ammettere buona si sente che diciamo che è confezionata probabilmente se fosse la spuma originale non sarebbe sarebbe molto più buona molto fresca rimasta bottiglia l'ho tenuto un frigo per un po' ma totale che fosse fresca anche la bottiglia si la la spuma buona se la trovate io ve la consiglio è una cosa un pochino più diversa dalla solita coca cola o dal tè freddo che si possa bere in estate dato questo io vi saluto ci vediamo al prossimo video vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social vi ricordo anche che se il video vi è piaciuto potete mettere un like potete condividerlo con i vostri amici e se avete qualche domanda qualche curiosità da farmi potete lasciare un bel commento qui sotto sotto la descrizione noi appunto ci vediamo al prossimo video e vi dico have a nice life